buongiorno e benvenuti nel mio canale come certo saprete copilot è una funzionalità della microsoft che fu aggiunta ai sistemi operativi windows alla fine di quest'anno nell'anno in corso e che è stata aggiunta anche al browser edge su android più recentemente browser edge su android in cui utilizzare appunto questo strumento dell'intelligenza artificiale direttamente da edge da pochi giorni se non da poche ore è stata rilasciata un'applicazione per android copilot che è appunto indipendente da edge per lo meno diciamo che non occorre aprire edge per usare copilot ma basta usare copilot come applicazione a sé stante questa è copilot per cercarla non bisogna cercare copilot perché sennò magari ci trovate veramente un copilota per navigare quindi dovete cercare microsoft copilot su android questo comunque l'indirizzo che vi metterò nella descrizione sotto il player del video dopo aver installato microsoft copilot si può utilizzare e verrà automaticamente utilizzato l'account che abbiamo per la microsoft se noi siamo già loggati con la microsoft per esempio su edge o su qualche altra funzione della microsoft automaticamente con lo stesso account potremo accedere anche a copilot e adesso passiamo a android per vedere come funziona appunto copilot c'è da dire che al momento non esiste questa applicazione per ios cioè per iphone e ipad prima copilot si poteva utilizzare da edge si apriva edge qui in basso al centro c'è appunto copilot si apriva copilot si poteva scegliere se utilizzare gpt4 oppure quella precedente e poi appunto inserire delle domande si poteva anche aggiungere delle immagini che sarebbero state processate con dalle un nuovo un altro strumento sempre della microsoft si poteva fare anche delle domande con il microfono toccando appunto sull'icona del microfono questo però adesso non è più necessario farlo c'è la applicazione di copilot che può essere anche cercata direttamente su play store questo è proprio microsoft copilot però bisogna digitare non copilot ma microsoft copilot perché sennò altrimenti ci potrebbero essere delle difficoltà si tocca sopra ed ecco qua mario soft copilot è installato ci clicco sopra e quindi lo apro e questo è mario copilot come vedete si può utilizzare più o meno come si utilizzava copilot da edge qui ci sono dei suggerimenti scrivi una canzone che celebri la bellezza della terra dove devo viaggiare se ho allergie ai pollini crea una canzone pop su un cavalluccio marino di nome bubbles eccetera eccetera possiamo anche personalizzare l'aspetto di copilot questo è l'accanto come vedete è stato rilevato automaticamente si può cambiare il tema passando a quello chiaro quello scuro quello automatico siamo automatico si può scegliere la geografica e la lingua le autorizzazioni anche queste possono essere gestite la cosa interessante quella privacy nella privacy possiamo assoluto cancellare i dati dell'app se si cancellano i dati dell'app si può per esempio eliminare la cronologia per eliminare tutte le vecchie chat i cookie e i dati del sito o addirittura la cache io direi che i cookie dati del sito non è bene non eliminarli però la cache e la cronologia possiamo eliminarli quando ci pare si torna alla home page qui in basso per iniziare un nuovo argomento si tocca su questa icona in basso a sinistra per invece utilizzare una immagine o scattare un'immagine si utilizza questa icona della macchina fotografica mentre l'icona del microfono serve per appunto fare una domanda a voce facciamo un esempio che cosa è l'astrobiologia aspetto mare vediamo cosa risponde ricerca in corso l'astrobiologia è una scienza che studia l'origine l'evoluzione e la distribuzione di colme di vita nell'universo cercando di scoprire se esistono colme di vita andate fuori dal pianeta terra l'astrobiologia coinvolge eccetera eccetera qui una domanda piuttosto ecco come vedete la presa da wikipedia chiaramente si poteva direttamente chiedere a wikipedia però chiaramente qui non si fanno domande solo di questo genere si possono fare anche domande più complesse dunque fammi una esegesi de il dolori del giovane werter ne ho un po questo chiaramente è più complicato trovare su wikipedia quella che cos'è un esegesi lo so è un romanzo ovviamente di ghete va bene qui ci sono anche i link per andare a controllare meglio le fonti da cui ha preso la risposta andiamo su non rispondere più adesso facciamo una domanda sull'immagine tocchiamo sull'immagine ecco qua spostiamoci andiamo su search ecco ma vediamo se riesce a capire cos'è questo tocchiamo ecco fatto la beccata in piena che cos'è facciamo meglio questi sono i contenuti correlati in effetti ha preso con precisione facciamo un'altra prova vediamo se riesce a capire cos'è questa qua qui si può naturalmente anche spostare infatti una friggitrice ad aria da questa in piena proprio proprio questa ok quindi fa anche delle ricerche si può anche naturalmente caricare un'immagine dalla nostra galleria o anche come vedete anche da google foto cerchiamo un'immagine dalla galleria c'è questa immagine qua se stiamo questo elemento quindi aggiungiamolo invece di search andiamo su chat e aggiungiamo appunto l'immagine questa immagine qua l'immagine viene caricata e adesso mettiamo aggiungi un bulldozer all'immagine vediamo se ci riesce andiamo su un'immagine ecco fatto vediamo se riesce ad aggiungere ma un bulldozer a queste immagini generazione risposte cercherò di creare quella immagine perché è usato 20 gente artificiale per generare l'immagine ecco fatto immagine generazione un po se riesce a generare qualcosa di interessante questa è la foto come vedete una foto molto invernale e questo è il risultato non è un capolavoro queste sono le quattro immagini dell'intelligenza artificiale beh insomma non è che proprio sia proprio quello che mi aspettavo comunque poi aggiunge un albero cambia il colore del bulldozer in rosso per questo si può fare vediamo questo più carine diciamo così facciamo un ultimo test andiamo sempre sulle immagini vediamo se riesce a far questo converti questa immagine in bianco e nero in bianco e nero e nero una immagine a colori vediamo cercherò di fare quello che mi hai chiesto ok come c'è 5 di senta vuol dire che per ogni conversazione si possono generare fino a 30 risposte massimo chiaramente poi si può anche cambiare argomento andare qui in basso beh chiaramente il risultato è pessimo diciamo la verità queste immagini in bianco e nero immagini a colori non ha niente a che vedere con l'immagine iniziale comunque questo copilot come applicazione a sé stante della Microsoft installabile su Android è una funzionalità magari che è molto da migliorare ma che è utile averla nello smartphone per poterlo utilizzare all'occorrenza e questo è tutto alla prossima volta